Passare la serata insieme, 75 dollari Allora... Allora? Che ne dici di un pompino? Avere le palle di chiederglielo, una bottiglia di vino da 12 dollari Sei impazzito, i miei potrebbero vederci Dai, chi vuoi che ci veda a quest'ora? Prometto che ricambierò il favore Ti immagini se ci beccano? Mio Dio, cosa ti farebbe mio padre? Non c'è nessuno, dormono tutti quanti No, è troppo pericoloso Ti prego, ti amo così tanto Dire davvero una frase così? Un'altra bottiglia da 12 dollari Ho solo paura Ti prego Papà dice di fargli questo pompino Oppure glielo faccio io, oppure scende e glielo fa lui Ma ti prego, digli di togliere il braccio dal citofono Avere una ragazza con il padre spiritoso? Non ha prezzo Ci sono cose che non si possono comprare Per tutto il resto c'è Mastercard Avere una ragazza con il padre spiritoso Avere una ragazza con il padre spiritoso Avere una ragazza con il padre spiritoso